I tifosi turchi, appassionati di calcio, mi dispiace tanto per questo. Ma sono stati due partite diverse tra il primo e il secondo tempo. Primo tempo, sinceramente, credo che abbiamo espresso un buon gioco con degli errori, e soprattutto il disimpegno che ha permesso il gol per l'Austria. Sicuramente per quanto creato anche in questa partita, un gol nel primo tempo era poco, perché abbiamo avuto molto di più, una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente. Il secondo tempo, sicuramente ci siamo disuniti, ci siamo allungati, non abbiamo giocato più la squadra dopo il loro gol. E questo mi dispiace molto per questo. Mi dispiace di questo risultato lungo, avevo bisogno di fare delle prove. Ho avuto risposte che cercavo. E ora continueremo a guardare le partite per creare il gruppo definitivo per gli europei. E ora continueremo a guardare le partite per creare il gruppo definitivo per gli europei. Ma se guardo un po' la costante, anche negli ultimi anni, sicuramente dobbiamo imparare a gestire, come nazionale intendo, come gruppo intero, a gestire anche gli elogi, no? Quindi il mio compito sarà quello di equilibrare sia quando, come oggi, che probabilmente abbiamo toccato un livello molto basso, sia quando abbiamo vinto in Germania o quando abbiamo vinto in Croazia per un equilibrio che è quello che ci permetterà poi di fare un grande europeo. Seguite anche in passato, se vince con la Francia si perde con l'Islanda, se vince con l'Holanda e si perde con l'Olanda si perde. con un'altra squadra più piccola. E questo è una cosa che mi ha fatto affidire. Quindi è una cosa che già successe. Fortunatamente noi adesso è successo nella MIGA. Quindi per me sarà più facile poterci lavorare su questo aspetto. Abbiamo dovuto fare meglio, avere la forza di uscire meglio e quando questo non lo permetteva di giocare davanti. Noi abbiamo avuto il rischio di più di quello che vogliamo. Il rischio di più a lì intenzione del rischio. Trod опасare abbiamo avuto il rischio, abbiamo avuto il rischio di 7-5. Nel rischio di questo momento abbiamo avuto un'altra considerazione. L'abbiamo avuto un rischio di più. Abbiamo avuto la cosa, l'abbiamo avuto lì delle aspettive le spcole. Quindi abbiamo avuto un rischio di più che negli attività. Quindi, ogni rischio di più che non è avuto. Bisogna fare un'analisi lucida, io penso che nonostante la sconfitta di averla. Sinterizzando, a me il primo tempo è piaciuto moltissimo, considerando tutto, una squadra non avevamo giocato insieme, tanti ragazzi non avevano l'intensità della partita perché giocano poco, ragazzi giovani. C'è un avversario forte, ha giocato alla pari e la serie più concreta sicuramente aveva fatto vedere qualcosa in più. Di questo ero contento il primo tempo perché c'era coraggio, c'era volontà. E quindi voglio ripartire da qui per avere e per lavorare sulla continuità mentale dei cento minuti di una partita anche dopo una sconfitta come adesso pesante così come dopo la vittoria della Germania. Quindi il mio compito è quello di trasmettere un equilibrio che io ho e che deve avere anche la squadra e chi sta tornando la squadra. E poi c'è il secondo tempo che abbiamo preso uno bello schiaffo, anzi più di uno. che credo e sono convinto che se siamo intelligenti e riconosciamo gli errori anche internamente alla squadra, intendo io con la squadra, sono convinto che questo sia, ci possa essere sconfitta più salutare per lavorare al meglio e guardare al futuro confiducia. Se non bisogna giocare al calcio, bisogna fare un altro lavoro. Se non bisogna giocare al calcio, bisogna fare un altro lavoro. Se non bisogna fare un altro sport, se non bisogna fare un altro sport. Se non bisogna fare un uomo contro uomo, allora non mi prendo dei rischi inutili. Ma quando non è così non vedo perché non bisogna giocare. Perché questo ti porta una convinzione mentale e una forza mentale che quando si automatizzano come in parte successe durante la partita ti dà una convinzione e ti dà dei vantaggi che altrimenti non avresti. Se non bisogna fare un'altro sport, non ho visto il secondo tempo, ma sono convinto perché la partita non vedo ogni attimo. Sicuramente il secondo tempo abbiamo giocato molto meno da dietro e abbiamo preso meno più gol. Perché mancato il coraggio, insomma in quel momento perché eravamo in difficoltà. Se non bisogna fare un'altra domanda. Rispetto alla seconda domanda credo che non sia una novità a creare problemi in generale esterno al nostro mondo. Io sono abituato da trent'anni da tutte le parti così. Se non avessi la forza e la lucidità e l'equilibrio per gestire sempre quello che succede fuori da questo ambiente intendo dall'esterno non potrei fare questo lavoro. Non sarai arrivato a certi livelli e vale così anche per i captatori. Quindi bu sadece benim için değil futbolcularımız için de geçerli. Seconde soru'ya gelmek gerekirse baktığınızda 30 yıldır ben bu işin içindeyim. Ve 30 yılda her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum. Bunlar çok normal şeyler. O yüzden burada zihinsel gücüm, zihinsel dengem olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu. Ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu. Çünkü benim bazı seviyelere ulaştığımı da kendim de biliyorum. Ama bunu neden? Kendi zihinsel gücümle ve zihinsel dengemle yaptım. Bu futbolcular için de geçerli. La vita è così. Tutto una lotta. Per arrivare ad vertici bisogna avere forza mentale, superare difficoltà, le delusione, le ingiustizie. Nel percorso vale nella vita, vale nello sport. Quindi vale per tutti sempre. E la differenza tra poi le persone sta tutta lì. Bunu söylerken a hayatta çok benzer bir konumda. Her zaman güçlü olmanız gerekiyor. Mücadele vermeniz gerekiyor. Ve zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Yani hayatta böyle şeyler tabii ki de yaşanıyor. Ama bahsettiğim şey her zaman güçlü kalabilmek ve onun üzerine koya koya devam edebilmek. Eee. 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 Grazie a tutti.